Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 20 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, nella sfera sentimentale la situazione non è così malvagia come sembra, anzi con i nati sotto il segno della bilancia e del capricorno potrebbe nascere una bella sintonia. Per quanto riguarda il lavoro, c'è un'agitazione, positiva, con Saturno che è dalla vostra parte. Quadro dei transiti di questo nuovo giorno di inizio primavera abbastanza promettente. I vostri tre paladini celesti, Plutone, Marte e il Sole lavorano per voi affinché la vostra vita prenda una direzione spedita e vada sempre di più su binari di coerenza, di equilibrio e di sicurezza in voi stessi. A mettervi inoltre sulla buona strada ci pensa Mercurio. Si trova nel vostro segno da un bel po' di giorni ormai. La sua azione vi mette nelle condizioni di migliorare costantemente quello che avete intrapreso, ogni azione che farete, ogni passo che caratterizzerà il vostro cammino. La luna cancerina non vibra bene sulle vostre corde né voi sulle sue, ma non tutti i giorni sono uguali, con un po' di pazienza, passerà anche questo mercoledì. Novità sul fronte finanziario targate Giove Oran in seconda casa, scarso interesse invece e anche poco impegno nell'attività quotidiana che ora più che mai vi appare imprevedibile, non solo in azienda, perfino in proprio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 8, benessere, 6. Toro. Cari toro, in amore prestate grande attenzione perché la luna è opposta, meglio aspettare un po'. Ancora un po'. Per quanto riguarda il lavoro, chi è alla ricerca di un'indipendenza deve fare i conti con il passato. Ora. Nel gioco dei transiti planetari troviamo oggi una felicissima Venere presente nel segno amico dei pesci. E proprio Venere, vostra supporter grandiosa, vi veda le prese con varie incombenze familiari, questioni di tipo tecnico, domestico legate alla gestione della casa e delle sue necessità. Con il vostro spirito infaticabile riuscite, come sempre, a venire a capo di ogni problema, conquistandovi la palma di segno che vince in virtù della sua serena pazienza, segno che non si lascia scoraggiare dalle contrarietà quotidiane piccole e grandi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 7, benessere, 9. Gemelli. Cari gemelli, ora siete in grado di risolvere una volta per tutte un problema che vi tiene in pensiero da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, sta per arrivare una soluzione, riuscirete a rialzarvi dopo i tanti no ricevuti. Rintracciamo equilibrati transiti planetari anche oggi che siamo entrati nel momento di inizio della primavera. Mercurio è nell'amico Ariete, la luna si trova nel segno amico del leone e il team Plutone, Marte splende nell'acquario e il tutto vi consente un quadro personale complessivo di stabilità psicofisica, di freschezza mentale, di prontezza di riflessi decisionali. Di fronte ad alcune situazioni della vostra vita che ancora non sono proprio tutte rose e fiori, sapete prendere le distanze e guardare avanti. La luna cancerina vi fa spendere più del consueto, inoltre promuove l'appetito. Stranamente avete bisogno di zuccheri, dolciumi, forse a causa di Urano in dodicesima casa che seppur camomillato da Giove vi rende nervosi, preoccupati per un problema che stentate a risolvere. Di che si tratta ve lo chiarisce subito Plutone allo zenit abbracciato a Nettuno, il progetto che ritenevate perfetto reclama modifiche tempestive e il capo non l'ha accolto con la fanfara, urge rimetterci mano ingoiando l'orgoglio. Ma in gran segreto dovete ammettere che stavolta ha ragione lui. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 7, benessere, 6. Cancro. Cari cancro, il periodo che state attraversando promette grandi cose con la luna che è dalla vostra parte, novità all'orizzonte nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, i pianeti in questo momento sono con voi e le occasioni non mancheranno di certo. Moti celestiche continuano ad essere in linea di massima per voi positivi. Venere benefica nell'ineffabile e vostro amico fidato segno dei pesci continua ad esservi amica, ma mercurio è in ariete in angolo dissonante. Non vi manca in ogni caso la ricettività e la capacità di essere empatici con l'ambiente circostante. Il rapporto con la famiglia d'origine appare buono nel nido in cui voi siete attualmente inseriti, invece, sperimentate ottimi rapporti genitori, figli, specie se crescete bimbi piccoli. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 7, benessere, 9. Leone. Cari leone, in amore bisogna evitare i conflitti, cercate di trovare delle soluzioni nel giro di poco tempo. Per quanto riguarda il lavoro, non potrete isolarvi, nel corso delle prossime ore dovrete lottare per quello che desiderate veramente. È la luna a svolgere un passaggio felice e fortunato di congiunzione, per il vostro segno, questo nuovo giorno di marzo. Vitalità, energia, un pizzico di protagonismo non vi faranno certo difetto in questa giornata. La configurazione generale consente al vostro spirito altruistico di esprimersi in tutta la sua bellezza, in modo più incisivo se siete nati nella prima decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Vergine. Cari Vergine, è arrivato il momento di affrontare delle discussioni importanti, attenzione perché quelle di mercoledì e giovedì saranno giornate importanti e pesanti. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione ai problemi da risolvere, non avrete problemi, sapete bene come gestire tutto con calma e serenità. La vostra amabilità è esaltata in famiglie dove riuscite ad essere il centro di scambi, cuore delle relazioni forti che si svolgono all'interno del clan di appartenenza. La trama odierna dei transiti vi vede in un'ottima condizione psicofisica e in un discreto buon umore. Non vi date pensiero se a volte non tutto fila su quella linea magnifica che avevate immaginato. Il duo sole, Nettuno semina qualche dubbio, infatti a voi che siete nati nella terza decade. Niente paura, comunque, perché la vostra incrollabile fiducia in voi stessi vi darà la forza morale e il piacere di stare al mondo con una discreta soddisfazione intima. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Bilancia. Cari bilancia, buone notizie in amore nel corso delle prossime ore, l'alunno non è contraria e sarete ottimisti. Per quanto riguarda il lavoro, i più fortunati riceveranno una bella inaspettata chiamata. Coraggio. La luna ritorna a favorirvi dal segno amico del leone e innalza i vostri entusiasmi, immette un raggio di fiducia e bonomia nella vostra dimora familiare. Proiezioni dei transiti planetari odierni promette così per voi oggi equilibrio, serenità e anche una discreta allegria. Ottimi i rapporti con i vostri figli o, inversamente, con i vostri genitori, se siete voi a essere figli. Non mancano felici scambi comunicativi anche tra zii e nonni con i nipotini. Quiete e armonia sono le parole d'ordine che si ripetono per voi oggi come un mantra nei rapporti personali, nello svolgimento del presente che a volte vi ha posto, specie nei giorni scorsi, non pochi ostacoli e difficoltà di vario genere. Pagellina del giorno. Sentimenti, sei, attività, otto, finanze, nove, benessere, sette. Scorpione. Cari scorpione, in amore c'è ancora un po' di agitazione, dovrete cercare di non desiderare due persone contemporaneamente, lasciatevi alle spalle un rapporto malato. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione ai soldi, Giove è con voi, guardatevi attorno e datevi da fare. Rimboccatevi le maniche. Coraggio. Oroscopo per voi un po' nuvoloso quest'oggi. C'è una in leone birichina a incrinare il quadro dei vostri transiti che non appare così al top come nei giorni e mesi scorsi, specie se siete della terza decade. Inoltre, anche Giove dal toro vi contrasta. Finché Giove resta in questa posizione, nel segno del toro, avrete le armi lievemente spuntate, specie se siete nati nella seconda decade. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 10. Finanze. 7. Beneessere. 10. Sagittario. Cari Sagittario, nel corso delle prossime ora potrete trovare una soluzione soprattutto perché la Luna, che è nel segno, aiuterà e non poco. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata di oggi, promette grandi cose, le idee non vi mancano di certo. Mercurio e Luna, la parte intellettiva e quella ricettivo, intuitiva della personalità, si trovano in angolo benefico per voi oggi e rispettivamente dai due segni amici di Ariete e da Leone, entrambi chiudono la stella di fuoco nello zodiaco. Si innalzano gli entusiasmi, la voglia di condividere emozioni con il maggior numero di persone possibile, la capacità di essere attivi e presenti a voi stessi, sempre. Un buon equilibrio intimo vi sorregge, consentendovi di risolvere, specie nella sfera familiare, questioni complesse. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 9. Beneessere, 9. Capricorno. Cari Capricorno, in amore questa giornata di marzo promette grandi cose, tra l'altro la Luna dal 25 del mese sarà dalla vostra parte e tutto migliorerà. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti i nuovi progetti. Mercurio e Luna, la parte intellettiva e quella ricettivo, intuitiva della personalità, si trovano in angolo benefico per voi oggi e rispettivamente dai due segni amici di Ariete e da Leone, entrambi chiudono la stella di fuoco nello zodiaco. Si innalzano gli entusiasmi, la voglia di condividere emozioni con il maggior numero di persone possibile, la capacità di essere attivi e presenti a voi stessi, sempre. Un buon equilibrio intimo vi sorregge, consentendovi di risolvere, specie nella sfera familiare, questioni complesse. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 8. Beneessere, 7. Acquario. Cari Acquario, in amore non avete dei punti stabili, delle ancore a cui aggrapparvi. C'è un po' di incertezza di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, prestate grande attenzione alle tensioni e alle preoccupazioni, tutto si risolverà, ma serve calma e tranquillità. Non vi curate di un clima caotico che si respira in casa e concentratevi sulle vostre occupazioni. Perché il piano dei transiti di questo inizio primavera è eccellente, anche se urano continua il suo viaggio nel segno contrastante, vostro nemico, amatissimo del toro e vi provoca su più fronti intimi e privati, specie se siete nati nella terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 8. Beneessere, 7. Pesci. Cari pesci, nelle prossime ore di questo mese di marzo dovete solo lasciarvi andare all'amore e alle belle emozioni, soprattutto se c'è una persona che vi interessa veramente. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo di grandi cambiamenti, non pensate al passato, dovete andare avanti con coraggio. Nell'oroscopo di oggi siete voi a salire al primo posto dei segni più fortunati della giornata odierna. Tutti i pianeti vi guardano sorridenti. Per amore di precisione, va detto, tuttavia, che sul piano individuale bisogna poi vedere anche la posizione complessiva del tema natale, del proprio ascendente, della propria luna, che è sempre più rispondente delle previsioni generali riguardanti il solo segno solare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 8, finanze, 9, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.